Aria di bassa pressione sulla Spagna, alta pressione centrata sul Mediterraneo occidentale, la Francia e il Regno Unito. Nelle prossime ore il Mediterraneo centrale si troverà sui margini orientali di questo promontore anticiclonico di matrice subtropicale, per cui sarà temporaneamente interessato dall'afflusso di aria più fresca e secca da nord-est. In Toscana lunedì 4 settembre velato fino alla mattina, poi sereno, venti deboli o localmente moderati da nord-est, dal pomeriggio raffiche fino a forti sui rilievi, soprattutto orientali e centro-meridionali e sulle zone sottovento, mari poco mossi, mossi a largo dalla sera, temperature minime in lieve aumento, massime in calo nell'interno, punte di 30-32 gradi, più marcato sulle zone orientali, in lieve aumento sulla costa, centro-meridionale. Sul territorio provinciale cielo sereno, localmente velato, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 18, massima 31 gradi, a Castelnuovo-Garfagnana e zone montane, minima 16, massima 29, a Via Reggio e sul litorale, minima 19, massima 30 gradi, martedì sereno poco nuvoloso, per temporanei addensamenti in appennino, soprattutto orientali. Grazie